La Polizia di Stato di Cosenza ha trovato e sequestrato a Marano Principato in un fondo agricolo a libero accesso quasi 6 kg di hashish, 900 g di marijuana, 249 g di cocaina e un pacchetto contenente denaro contante con banconote di diverso taglio per un totale di 20.000 euro. I poliziotti, nell'ambito dei servizi straordinari disposti dal questore di Cosenza e coordinati dalla locale procura, hanno avviato diversi controlli nel territorio capoluogo Bruzio e nel suo Interland finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare il personale della squadra mobile assieme alle unità cinofile della questura di Vibo Valencia e cani antidroga hanno trovato nel fondo agricolo la sostanza stupefacente e il denaro abbandonati dai gnoti. Il materiale vario era stato diversamente confezionato e custodito in una busta per la spesa. Le indagini sono ancora in corso.